Lì tu sei capitale Vai vai lì Vai 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 Va bene Ma se ti senti sempre il porto Ricordo il porto Va bene Va bene Ok Il porto sulla destra No No Non paro La sinistra La sinistra vai Dentro sul pilote E non lo vedete Vai stare a bene così dai Ok La sinistra vai E non pensare Ape Ape Sinistra Sinistra E non pensare Sì Il porto sulla destra E non Ok Il porto sulla destra E non lo vedete Il porto sulla destra E non lo vedete Il porto sulla destra E non lo vedete Ok Sinistra Vieni 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 Ok La sinistra Vai Benissimo Benissimo La sinistra tornante Non sbaglio Non lo vedete Puffa Bravo Vieni 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 Forse ormai Vieni Ok Benissimo destra l'oltre ok, destra uc, s'arca s'arca, s'arca il telefono il telefono il telefono sinistra l'oltre l'oltre il telefono bravi il telefono Ok, vediamo A sinistra Rafferzo, ok Va bene, vai lei Va bene, va bene Va bene, Vaskarna Ok A sinistra Sì, sinistra, fino a destra, destra, sinistra, destra, sinistra, bravo, dai non si è mai... Ok, sinistra, l'ho visto, mi stai vedere, non puoi vedere. E me ne ci sono, a volte sei, a te lo comando dove vai, Vepi, vieni, la prima denti della compagna, non due delle troppe qua, Vepi, hai chiodo, hai chiodo, vieni, qua destra, con la destra, Ok, schiaria vettere Ok Sinistra Stoicone Stoicone Vai vettere Ok Ok Stoicone Stoicone Vai Vai vettere Sinistra Sinistra e qualche video con il volto a sinistra e il volto a destino se vissi state di un'uoi lontano, vai! a me deve per un'opera e poi a me deve per fare un'uoi lontano a me deve per fare un'uoi lontano e a me deve per fare un'uomo a destino va a un'arca e poi è un'uomo a destino a caretta, dopo il punto a scalar estra l'uomo a destino, ma non starca che avete visto che è costato tutto qua ok bambino ok 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 ok